Book Lab, episodio di gennaio. Il primissimo libro che ho letto quest'anno è stato Atomic Habits di James Clear, Piccole abitudini per grandi cambiamenti, che consiglio moltissimo a chiunque voglia costruire abitudini in durature. Parla della scienza delle abitudini e permette di comprendere il funzionamento del nostro cervello per creare la vita che desideriamo. Ho poi letto La saga dei Florio di Stefania Auci, che si compone di due libri, I leoni di Sicilia e l'inverno dei leoni, bellissima narrazione dell'ascesa della celebre famiglia Florio che ha segnato La storia della Sicilia, molto molto consigliato. Non vedo l'ora di visitare Palermo per vedere dal vivo i luoghi descritti nei libri. E voi che libri avete letto di recente? Scrivetemelo nei commenti!